ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco bramitob chiesi italia spa ultimo aggiornamento 4 ottobre 2021 cosa abramitob confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere bramitob durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa abramitob bramitob ha un farmaco a base del principio attivo to bra micina appartenente alla categoria degli antibatterici aminoglicosidici e nello specifico altri aminoglicosidi e commercializzato in italia dall'azienda chiesi italia spa bramitob può essere prescritto con ricetta rnrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni bramitob 300 mg bar a 4 ml soluzione da nebulizzare 56 contenitori monodose informazioni commerciali sulla prescrizione titolare chiesi farmaceutici spa concessionario chiesi italia spa ricetta rnrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe a principio attivo to bra micina gruppo terapeutico antibatterici aminoglicosidici forma farmaceutica soluzione indicazioni terapia prolungata dell'infezione polmonare cronica da pseudomonas eruginosa in pazienti con fibrosi cistica dieta non inferiore ai sei anni posologia posologia bramitoba solo per uso inalatorio e non va utilizzato per via parenterale deve essere tenuta in considerazione la linea guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici la terapia deve essere iniziata da un medico con esperienza nel trattamento della fibrosi cistica la dose consigliata per adulti e bambini di età superiore ai sei anni a pari ad un contenitore monodose 300 mg due volte al giorno mattino e sera per un periodo di 28 giorni l'intervallo tra le due dosi deve essere il più avvicino possibile alle 12 ore dopo 28 giorni di terapia con bramitobi pazienti devono interrompere il trattamento per i 28 giorni successivi si deve rispettare la regime a cicli alterni un ciclo di 28 giorni di terapia seguiti da 28 giorni di interruzione del trattamento bambini di età inferiore ai sei anni l'efficacia e la sicurezza di bromitoba non sono state dimostrate in pazienti di età inferiore ai sei anni anziani la tobra micina deve essere usata con cautela nei pazienti anziani con funzionalità renale ridotta vedere paragrafo 44 pazienti con alterata funzione renale la tobra micina deve essere usata con cautela nei pazienti con disfunzione renale accertata o sospetta bramito deve essere sospeso in caso di nefrotossicità finca la concentrazione sierica della tobra micina risulta inferiore a 1 amugi barra ml vedere paragrafo 44 pazienti con insufficienza etatica non sono necessarie modifiche alla posologia di bramito in caso di insufficienza etatica il dosaggio non ha stabilito in base al peso corporeo è previsto che tutti i pazienti ricevano un contenitore monodose di bromitob 300 mg di tobra micina due volte al giorno il trattamento con tobra micina deve essere continuato su base ciclica fino a che il medico curante ritenga che il paziente traga benefici dall'inclusione di bramito nella regime di trattamento nel caso in cui si presentasse un deterioramento clinico dello stato polmonare si deve considerare l'opportunità di intervenire con una terapia anti pseudomonale aggiuntiva modo di somministrazione il contenitore monodose deve essere aperto immediatamente prima dell'uso l'eventuale soluzione non utilizzata immediatamente non deve essere conservata per un riutilizzo ma deve essere eliminata la somministrazione di bramito va effettuata rispettando rigorosamente le norme igieniche generali l'apparecchiatura usata deve essere pulita e funzionante il nebulizzatore di uso strettamente personale va tenuto accuratamente pulito e deve essere regolarmente disinfettato per la pulizia e disinfezione del nebulizzatore a tenersi alle istruzioni fornite con il nebulizzatore dose massima giornaliera tollerata la dose massima giornaliera tollerata di bromito non ha stata stabilita istruzioni per l'apertura del contenitore flettere il contenitore monodose nelle due direzioni staccare il contenitore monodose dalla striscia prima sopra e poi al centro aprire il contenitore monodose ruotando l'aletta nel senso indicato dalla freccia esercitando una moderata pressione sulle pareti del contenitore monodose far uscire il medicinale e versarlo nell'ampolla del nebulizzatore l'intero contenuto del contenitore monodose 300 mg versato nel nebulizzatore va somministrato tramite un'inalazione della durata di circa 15 minuti utilizzando un nebulizzatore riutilizzabile pari lc plus con compressore pari turbo boy velocità di rilascio del farmaco 6 2 mg bar a min rilascio totale del farmaco 92 8 mg diametro di massa media aerodinamica di 10 0 65 am u m di 53 e 15 am u m di 98 99 am u m o un nebulizzatore riutilizzabile pari lc sprint con compressore pari boy sx velocità di rilascio del farmaco 6 7 mg bar a min rilascio totale del farmaco 99 8 mg diametro di massa media aerodinamica di 10 0 70 am u m di 53 e 36 am u m di 99 41 am u m bramito viene inalato mentre il paziente ha seduto in piedi e respira normalmente attraverso il boccaglio del nebulizzatore una mulletta per il naso può aiutare il paziente a respirare attraverso la bocca il paziente deve continuare il proprio regime standard di fisioterapia respiratoria l'uso di bronco dilatatori appropriati va continuato a seconda della necessità clinica nel caso in cui i pazienti ricevano diverse terapie respiratorie se ne raccomanda l'assunzione nel seguente ordine bronco dilatatore fisioterapia respiratoria altri farmaci per via inalatoria ed infine bramito bramito non deve essere miscelato con altri medicinali per uso inalatorio controindicazioni la somministrazione di bramito va controindicata in tutti i pazienti con ipersensibilità accertata nei confronti di tobramicina di qualsiasi aminoglicoside o di uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 ha inoltre controindicata in pazienti trattati con potenti diuretici come la fursemide o l'acido etacrinico di cui è stata provata l'ottotossicità avvertenze speciali e precauzione di impiego avvertenze generali la tobramicina deve essere usata con cautela nei pazienti con disfunzione renale accertata o sospetta uditiva vestibolare o neuromuscolare o con emotisi grave in atto la funzione renale vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione si deve evitare l'uso concomitante o sequenziale di bromitob con altri farmaci con potenziale azione nefrotossica ototossica alcuni diuretici possono aumentare la tossicità degli aminoglicosidici alterando le concentrazioni antibiotiche vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere bramitob insieme ad altri farmaci come a euro scicorin a euro a euro scisplatino accord e altcare italia a euro a euro scisplatino pfizer a euro a euro scisplatino sandoz soluzione uso interno a euro a euro scisplatino teva italia euro a euro sicar visa euro a euro zero max euro a euro sand in moon capsule molle a euro a euro sand in moon neural capsule molle a euro a euro sand in moon neural soluzione a euro a euro sand in moon soluzione a euro a euro sand in moon soluzione uso interno a euro a euro svercazia euro eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere bramitob durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere bramitob durante la gravidanza e l'allattamento bramitob non deve essere utilizzato in corso di gravidanza e allattamento a meno che i benefici per la madre non siano superiori ai rischi per il feto o il neonato vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati effettuati studi riguardanti l'effetto sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari sulla base delle segnalazioni di reazioni avverse del farmaco si ritiene improbabile che la tovromicina produca effetti sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari ciò nonostante poichà possibile l'insorgenza di capogiri e barra o vertigini i pazienti che si accingono a guidare o a usare macchinari dovranno tenere conto di ciò effetti indesiderati nell'ambito di studi clinici controllati 4 e studi clinici non controllati 1 con bramitob 565 pazienti trattati le reazioni più a comuni sono state quelle relative al sistema respiratorio tosse e vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio sintomi per somministrazione inalatoria la tovromicina ha una ridotta biodisponibilità sistemica i sintomi da sovradosaggio di aerosol possono comprendere grave raucedine in caso di ingestione accidentale di bromitob la tossicità è improbabile poichà la tovromicina viene scarsamente assorbita dal tratto gastrointestinale integro in caso di somministrazione per errore di bramitob per via induvenosa possibile che si presentino segni e sintomi di un sovradosaggio di tovromicina parenterale che comprendono capogiri tinnito vertigini perdita di capacità auditiva difficoltà respiratoria e barra o blocco neuromuscolare danno renale trattamento la tossicità acuta va trattata interrompendo immediatamente la somministrazione di bramitob ed eseguendo esami di funzionalità renale le concentrazioni di tovromicina nel siero possono essere utili per controllare il sovradosaggio in qualsiasi caso di sovradosaggio va considerata la possibilità di interazioni tra farmaci con alterazioni della eliminazione di bramitob o di altri medicinali proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica antibiotici e minoglicosidici codice atc il lunga 01 gb 01 la tubra micina un antibiotico minoglicosidico prodotto dallo streptomice stenebrarius la sostanza agisce principalmente interferendo con la sintesi delle proteine causando cosa l'alterazione proprietà farmacocinetiche assorbimento e distribuzione in seguito a somministrazione orale soltanto lo 0 300 minuti e 5 secondi per cento del farmaco compare nelle urine a prova dell'assorbimento sistemico dopo somministrazione per nebulizzazione a sei pazienti affetti da fibrosi dati preclinici di sicurezza negli studi di tossicità per dose ripetuta gli organi bersaglio sono i reni e le funzioni vestibolari barra cocleari in generale la tossicità si vede a livelli sistemici di tovromicina più elevati elenco degli eccipienti cloruro di sodio acido solforico idrossido di sodio acqua per preparazioni iniettabili farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di bromitoba base di tovromicina sono tovromicina sa tovromicina teva fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato